Verso la porta Neymar, in area di rigore il brasiliano, prova l'uno contro uno, partendo quasi da fermo, cerca l'assist, interessante per Fabregas che arriva al rimorchio, fa 6 a 0, è entrato da 23 minuti, l'ha già messa due volte, stavolta di sinistro un gran gol, punteggio tennistico. Cosa ha il Barcellona tra le altre qualità, oltre alla tecnica dei grandi giocatori ai tempi di gioco, guarda come è arrivato Fabregas, Neymar l'ha aspettato ma è stato Fabregas che ha capito che c'era lo spazio giusto, perché i centrocampisti del Santos sono arrivati in ritardo, perché ha meno conoscenza.